Siamo a fine giornata, questa fase è andata lunga e intensa, quindi lascerò raccontare come una sostanza sana, sono due parole, vuol dire che questa tesi è frutto di una riflessione profonda, in una sua scondizia che ce lo racconterà, io posso testimoniare la strada, il percorso della pratica, di avvicinarsi, di approssimarsi a un'idea narrativa e un'idea di testo, sarà poi che era praticamente in conclusione, sempre casa due il copo, abbiamo avuto una pausa un po' forzata nella fase di lavorazione finale, ma era già questo che tutto pronto, la riflessione la lascio da contare a lei, questa è una riflessione molto personale che mi veniva rileggendo le sue cose da definire filosofo, poi quello che in questo caso interessava invece da un punto di vista del mio percorso, della disciplina in cui Sarsi si trova, che era la forza evocativa di una narrazione emotiva e anche in questo la scelta dopo nel percorso di altri che abbiamo ascoltato, è stato un lavoro di estrema sintesi, c'era una materia grande e annunata via via a, diciamo, viene da dire, c'è stato un flusso, un flusso di pensia, un flusso, appunto, littico che ha, via via, sbrossato quell'idea fino a portarla alla sua essenzialità di un testo che ascolteremo, che è un testo che però è un testo poetico, un testo poetico che si presta a essere letteratura illustrata, letteratura visibile. Prego, Sanna. Grazie, professor, con la presentazione e ringrazio tutti in anticipo per l'attenzione. Come ha premesso il professore, il grande ricordo è il progetto di un libro illustrato e voluto a un pubblico di età differenti, che ha, alla sua base, una riflessione su una letteratura del ruolo. Questa riflessione nasce da una singola suggestione visiva, però una frase, scritta su un adesivo, incollata alla cassetta postale, che ho fotografato al pubbino il 18 marzo del 2018. Di tutte le cose apprese, le cose perse, il concetto è vero che da sotto i tuoi occhiani. Se fosse esistito uno strumento in grado di misurare il peso emotivo delle cose perse, dunque dei ricordi, tendolo a confondo con il peso emotivo delle cose apprese, sarebbe senz'altro sprofondato sotto il fardello degli nomi. A un così ingente peso emotivo non può poi che corrispondere, circoscrivendo legalmente l'area del pensiero, una soltanto superficie ingente occupata dalla serie di ricordi. Così a seguire si potrebbe determinare anche un criterio temporale, ha maggior densità di ricordi all'interno dello spazio del pensiero e dovrebbe un tempo maggiore in cui i ricordi sostituiscono la concezione di nuove idee. Vista l'invasività del peso emotivo dei ricordi e del tempo speso a dedicarci, l'autorevolezza di un attesivo su una cassetta postale sarebbe molto meno potuta o meglio dovuta essere in discussione. Ma ciò non accadde per noi. Anzi, a rinverare la dose di convinzione secondo cui le cose perse erano da ben distinguere dalle cose attese in una seconda citazione, alla volta diventa. Non sono la mia ricchezza, sono più del minuto il mio altro che del conosciuto. Così il tempo già di scrivere i ricordi. E se da un lato ero fortemente concorrente con la seconda parte della frase, per me, contrariamente dall'autore, i ricordi erano effettivamente un'inestimabile di ricchezza. D'altra parte però non li riconducevo al conosciuto, a quelli che prima erano le cose apprese, bensì al minuto il girato, a quell'evento che nell'esatto istante nel suo accadere era già destinato a risuonare nel tempo tra le cose che sarebbero potute accadere sempre. Mi fu chiaro, solo col tempo, che la mia non era la definizione di ricordo, bensì la chiara definizione di rimpianto, il malinconico messaggero delle cose perse. La domanda che mi esegui ad ora, a parte ovvia, cosa sono ancora i ricordi? E' chiaro che ricordi e rimpianto siano da distinguere come dall'altro, però non si può scendere il concetto di perdita da quello di ricordo, perché l'idea stessa di ricordo si lega a un evento passato, terminato e mai più analogamente che non viene applicabile. Ehm... ... ... ... ... ... ... ... Se circoscriviamo, però, l'idea del ricordo alle sole percezioni emotive del simbolo, rischiamo non di definirlo, bensì, appunto, di ricondurlo al sentimento, che ognuno di noi associa al proprio passato. Se per me infatti i ricordi erano prevalentemente riconducibili alla malinconia, per altri potrebbero essere prevalentemente riconducibili alla tristezza, all'ottentezza, all'anno così via. Ritorniamo allora alla definizione iniziale che ero convinta fosse la dimensione di ricordi, di tutte le cose apprese, le cose perse. Un altro errore immerso fatto durante la mia traduzione, mi senso a questa frase, è stato senz'altro quello di ignorare del tutto il ruolo delle cose apprese. Infatti le stesse cose perse non sono altro che eventi che sono entrati a far parte della nostra memoria evitando tutti gli effetti delle cose apprese. Dobbiamo aggiungere poi che senza le cose apprese, comunque, nella nostra memoria non saremo in grado di compiere le nostre più banali azioni dell'ordine quotidiano. Ricordare, dunque, significa tingere con la mente a una serie di costruzioni che nello insieme edificano la nostra storia e plasmano la nostra identità. Anche da rilasso apprese, però, non possiamo uscire dalla percezione soggettiva, positive o negative che siano, la definizione del ricordo non va ricorduta alla propria percezione. Dunque, la domanda rimane la stessa. Cosa sono i ricordi? Ad aiutarci è l'etimologia attiva. Ricordare i derivanti del cliente puntuale. Indietro, ricordo con il cuore, richiamare il cuore. Dunque, il ricordo è necessariamente un mezzo attraverso il quale richiamiamo il cuore un evento passato. Un veicolo in grado di donare un aspetto di immortalità alle cose morte. Un così grande veicolo, un così grande mezzo, però, porta con sé un altrettanto ingente rischio. Non importa che ad essere ricordati siano degli eventi nei quali non viaggiamo, non è un esito. Il tempo, il quale ci dedichiamo ai conti, può essere comunque occupato così misuratamente. In un mondo ideale, l'etimologia latina, aggiungerebbe di nuovo uno smaiuto, perché è una diversa eccezione. Dimenticare e scordare equivale a non mantenere la mente, mentre scordare si deve far uscire dal cuore. Si potrebbe, dunque, idealmente, non mantenere la mente troppo a lungo qualcosa, senza però farlo uscire dal cuore. Però sappiamo che ciò non può chiaro di maniere in un mondo ideale. Ho speso male. Per perdonare il tempo stesso, perché il suo trascorrere ha lasciato indietro i nomi di giudici. E l'unico motore di questo sforzo oneroso è la fiducia nel tempo ancora da dedicare. Ed è proprio la fiducia nel tempo ancora da dedicare ad essere la chiave dell'illustrato Il Grande Ricordo, che nasce da un ruolo di attribuzione di senso a una trase, su una massetta costale, e si sviluppa con l'esigenza di riassumere le possibilità di senso in una concezione personale di ricordi. Come abbiamo visto, il concetto di perdita non può essere in alcun modo scisso da quello del ricordo, per cui doveva per forza essere ammesso all'interno del progetto. Nel caso del libro illustrato, a perdersi non è un oggetto, né una persona, bensì un grande ricordo. Il protagonista del racconto si sveglia una mattina con l'assurda consapevolezza di che ha smarrito un grande ricordo. Il protagonista in particolare non viene descritto, né tramite le parole, né appare in nessun modo nell'immagine. Questo vuole essere un spediente in grado di avvicinare il lettore all'assurda possibilità che in un evento quanto strano possa accadere anche a lui, prendendolo co-protagonista del racconto. Non appena la prima apertura che vediamo all'interno del libro rappresenta quella che potrebbe essere la presentazione convenzionale di ricordo con il cambio, una cordice vuota, tanto vuota da lasciare anche la parete che aggiunga la sottostante. Vedremo solo poi che in accordo con la tavola finale, questa tavola si rivelerà fondamentale come veicolo della trasmissione di senso che voleva dire tutto adesso. Allora, il protagonista ci rende conto di aver smarrito un grande ricordo, inizia una ricerca all'interno della propria abitazione. E qui entrano in gioco i secondi protagonisti della storia, ovvero gli oggetti. Ognuno di noi ha degli oggetti ai quali conferisce il ruolo di simbolo, diventando essi stessi veicolo del ricordo del nostro passato. Nel caso che vi racconto però non ci sono foto che già dite, miei vecchi di aria e i pauli impolverati, bensì oggetti funzionali di un suo quotidiano. E questo non vuole sottolineare ancora di più la distanza con il passato. Una distanza sottolineata anche dal fatto che tutti gli eventi all'interno del racconto non siano riferiti al passato, ma siano riferiti a una giornata in un grande indire. Un ben più importante messaggio che portano però gli oggetti all'interno del racconto si riferiva dal fatto che gli oggetti in se per sé non raccontino in alcun modo l'evento al quale si negano all'interno della storia del protagonista. E questo perché dalla concezione di ricordo non possiamo in alcun modo dividere quella di percezione soggettiva. Dunque è lasciata al lettore la liberissima possibilità di interpretazione durante la lettura del libro. E' proprio per questo e per la centralità del ruolo del dittore che procederemo a leggere il racconto insieme. Il grande ricordo Una mattina come tante, un uomo come tanti, fa una scoperta come nessuno prima. Ha smarrito un grande ricordo. E' normale che non si perdano, che i numeri salti hanno una casella all'altra da già aiutare, che alcuni indirizzi non ritrovano più la strada di casa. Quello che ricercano, normale, non è, è che a smarrirsi sia un grande ricordo. I ricordi grandi, però, non fa solo non ricordarli. Ci pensano i cassetti. Nei lintinano gli scappali. Nei conversano le righe di poterne. L'uomo inizia a cercarli. Nella casa ogni cosa è abitata a un ricordo. Le tene si intrecciano a una memoria leggera. La porta del frigorifero mostra a caldo i casaggi. Le stupiglie custodiscono le radici normali. Nel grande ricordo ancora nessuna faccia. Uno scontrino racconta di vecchi sabori. Una giacca porta i segni delle lune trascorse. Un libro fa la finestra ad antiche curiosità. Una schiena di spigli rammenda i luci più piccoli della memoria. Il grande ricordo sembra non trovarsi da nessuna parte. Così, con avarezza, l'uomo decide di uscire di casa. Le valide del cortile fanno una tornice a una porzione di ceno. Che giornata sarà, pensa? Una giornata di riportare. Un grazie a tutti. E' così che si conclude il libro registrato. E per concludere invece la presentazione, ho voluto aggiungere un frammento di una poesia di Antonio Maciato che si intitola Il libro si spende in abbandono. Che penso riassume in un po' diversi il senso che volevo nel mio libro registrato trasportasse. Fluttua nell'orizzonte della sera questa roba d'assenza che all'anics dell'elte dice mai e dice al cuore spera. Grazie e vi rendo disponibile adesso. Un libro da meditazione come un pochino per gustarsi, no? A piccoli sorsi. La scelta di... Cioè io soprattutto sono un tecnico la scelta di questa carta radicata questa carta raffinata, no? Questa carta che per chi lavora con la comunicazione per chi lavora con la mitoria è secondo me una carta attenziosa una carta che è utilizzata addirittura per le vostre carte intestate che ha fatto la sua... la sua fortuna quando uno con i suoi cartoni è stato qua. Queste frasi, queste piccole prelandate accompagnate la tua... la tua... la tua... questa frase però ti devo chiedere guardando la tua parte di ricerca la parte di cui hai fatto di storico, no? Quello dove semplicemente quando il bianco e il nero hai insegnato quelle che sono si chiamano le tavole... le tavole di riferimento. Alcuni... Alcuni aspetti, alcuni tavole dello storico hanno una forza maggiore però le registrazioni che ti ho usato su di noi. Mi riferisco a quella dei cassetti mi riferisco a quella... però perché è la mia opinione quindi... il tuo progetto questa è la mia opinione. Mi riferisco alla tenda mi riferisco al foglio appeso, no? perché... ormai questa trasformazione questa... diciamo questo abandono con questo schizzo che di per sé già funzionava e si è arrivato ad un'illustrazione che comunque funziona ma che ha una forza diversa. sicuramente perché è un'espressione che ho trovato più adatta soprattutto rispetto al mio percorso. Ho utilizzato l'acrilico proprio per questa ragione con la post-produzione digitale per lo studio dei colori e proprio con i colori volevo trasmettere la luce all'interno delle tavole che con il bianco e nero sarebbe senz'altro risultata comunque però mi sarebbe sicuramente... mancato ovviamente qualcosa nell'espressione delle tavole il mercato dell'interno del polio. No, no, io non parlo di bianco e nero io parlo proprio della presentazione dei due cassetti di ottenere una scena ecco, proprio la parte di riproscrizione dell'illustrazione qual è la puntata di un'illustrazione finale è uno zoom sul percorso. Sì, le immagini dello storyboard... Mi piace che hai cambiato totalmente? Sì, sì. Cioè, deciso di un momento di sostituire l'immagine e la riproscriverte tutte e due? Sì, in realtà il fatto stesso che ci siano degli oggetti all'interno del racconto mi ha dato la possibilità di cambiare alcuni oggetti rispetto a una forza del testo e quindi pensavo che potesse funzionare di più la scatola che nel testo è rappresentata la scatola come rappresentazione di grande riporto il contenuto di grande riporto la luce e la energia quindi era solo ecco una mia impressione che voleva separare la tua riscontro alla propria questa domanda e... Sara, c'è parlato della vita, no? C'è parlato di post-polizio io come tecnico devo però constatare che la luce si vede ma queste illustrazioni non hanno forza sono prodotte con questo effetto non è buonissimo con questo effetto con questo effetto non è buonissimo con questo effetto che è avvenuto che sono le caldi originali certo, certo sicuramente un effetto di colore vivido o le luci fosse alcuni colori poi sono stati senz'altro cambiati anche per la scelta della carta che essendo gialla cambia i toni alcuni semplici non è buonissimo 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 ma secondo me ricordo la tecnica sono tavole in cui hai seduto con il foglio si con il foglio di attraverso però è più lungo poi hai fatto la scansione dove era la riproduzione che aveva verificata cioè sei preoccupato per le tonalità di alcuni colori rispetto all'immiginario per esempio il tuo percorso si conclude con questo progetto che sicuramente da un po' una in girare la fila in questo percorso qui in visita e la mia domanda ma è anche una provocazione hai secondo te con questo lavoro espresso un po' quello del corso tra l'altro la maturazione che hai avuto durante il corso hai riguardato indietro magari facendo la tesi i lavori del primo anno da dove facevi prima l'analisi critico l'analisi senz'altro prima l'analisi non sarei stata in grado di fare di una suggestione visiva di una casualità un progetto effettivo quindi sicuramente questo è stato il frutto del percorso all'interno di questo secondo me lei ha maturato soprattutto tutto eventualmente perché mi ricordo ha fatto un problema molto simile a tutte le sue amministrazioni il parlo dell'estimazione non è sempre la sua ricordata però ho visto la presentazione che lei ha articulato perché aveva sentito avere valore il discorso e tutto quanto in me è veramente eccellente rispetto anche al prodotto stesso per cui saper raccontare con i progetti significa saperli valorizzare saperli quindi saperli fare pezzare perché si riguarda una cosa differente e mi piace che tra la cosa dei due racconti paralleli e forse per questo tu metti questi testi al centro proprio per creare una specie di specchio per esempio questi testi li avrei ancorati in alto proprio per farli cercare subito l'immagine piuttosto che farli farli sullo stesso piano dove fare un po' più da sfondo sembrano si spostandoli oppure facendoli trovati in alto punto in questa posizione centrale molto simile al disegno c'è appunto guardarli per forza per fare immagini di più di disegno che rimane comunque rispetto alle parole che sono poetiche che tutto quanto non so scritte bene rimane comunque ha comunque una frazione maggiore perché noi guardiamo prima di immagini che era divergere no? perché ci sono più c'è dei signori di più sono più abituati a leggere prima di immagini quindi vi avevi dato due posizioni differenti per dare più valore alle distrazioni insomma ma soltanto oppure per ricardare il tempo di lettura per questo particolare io invece da te vorrei lasciare più di un'altra proposta per l'estate per l'accordo non neanche io ho preso le situazioni della storia andando a trovare una carta magari cofratta una carta che abbia una nobilità una superficialità insomma importante e poi magari penso a qualche tempo da me con le tue impressioni su questo consiglio da vecchi stampatore che mi trovate possiamo fare una mission di formato quella è stata così richiediamo grazie 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 con l'indirizzo autostazione su spazio con la valutazione di 110 159 euro grazie grazie vi chiamo chiusa la sessione di 10 grazie 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 ci vediamo continui a pensare grazie